Il Presidente del Consiglio regionale Valerio Cattaneo ha ricevuto a Palazzo Lascaris il Generale Comandante della Legione Carabinieri Piemonte-Valle d'Aosta, Pasquale Lavacca, che il prossimo 2 dicembre lascerà la nostra regione per essere destinato a Roma, dove lo aspetta l'incarico di Direttore Generale Responsabile dei Servizi Informativi e Automatizzati dell'Arma dei Carabinieri. A Lavacca, che era a Torino dal 1 agosto 2011, subentrerà il Generale Gino Micale.